Una fascia nera al braccio in segno di lutto per protestare contro la bocciatura da parte della Camera della richiesta di arresto per Nicola Cosentino e la reazione del commissario dei Verdi di Napoli, Francesco Borrelli. Quando c'è una richiesta di arresto per fatti così gravi, un normale cittadino ci va da poggio reale. Poiché per noi Cosentino è uguale agli altri cittadini, se la magistratura ha chiesto ben tre volte il suo arresto ci sarà una ragione. All'iniziativa ha aderito anche l'ex deputato dell'Ulivo, oggi nel coordinamento nazionale della sinistra di Vendola, Arturo Scotto. Cosentino è il referente dei Casalesi in Parlamento secondo gli atti della magistratura. Immaginare di salvare una figura del genere in un momento drammatico di crisi del Paese e di un rapporto tra la politica e i cittadini che si è interrotto, che si è spezzato, che mai come oggi è entrato in difficoltà e che rischia di aumentare nei prossimi mesi. Sulla vicenda è intervenuta anche Valeria Valente del Partito Democratico. Un'occasione sprecata per ristabilire un rapporto di fiducia tra le istituzioni e il sentire comune di tante persone che quotidianamente faticano ad avere fiducia nelle istituzioni. Cosentino andrà al processo da uomo libero, ma lascia il partito campano senza il coordinatore. Il PDL locale però resta compatto e spera in un leader espressione del territorio, Luciano Schifone, consigliere regionale PDL. Possibilmente espressione della regione stessa, espressione locale. Quindi Lupi già non va bene? Si è parlato di... Beh, voglio dire per carità, l'onorevole Lupi è un autorevolissimo esponente del partito, può anche andare bene. Grazie.